Siamo al Motor Legend Festival di Imola, il 20 aprile 2018 e siamo nel box in cui sono costruite le Ferrari Formula 1 dal 2000 ai nostri giorni, qui si possono vedere alcuni particolari del Formula 1 Ferrari Questo è uno dei famosi cestelli freno in carbonio studiati e progettati dalla Ferrari, che ha influenzato in tutte le altre scuderie Tutte queste Formula 1 sono state acquistate da clienti e sono sotto la gestione clienti sportivi da Ferrari, bellissimo questo cavallino Particolare dell'alettone posteriore, beh, molto complicato come si può vedere Questa è la Formula 1, una delle Formula 1 di Il primo di Carro La agenda? Ma non so? 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 Sono tutti! Ciao! Allora! Vedi? E' un po' lo sta? Vado, no. Ci chiamo Kraut per il tuo vetore. Volevo mangiare? Volevo mangiare? Grazie! Ciao! Abbiamo lasciato il box dove sono costruite e la maggior parte delle Formula 1 Ferrari presenti al Motor Legend Festival 2018 e ci siamo recchiati nella hospitality della Shell dove fa bella mostra di sé la Ferrari F1 di due anni fa quella con quel muso stranissimo e con queste immagini vi lasciamo e speriamo che il video vi sia piaciuto un arrivederci da peni rossi e un ciao a tutti ma sono ancora solamente le prime passute quindi è ancora un po' presto per fare bilancio e 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 un po' presto per fare bilancio